bella ragazzi e benvenuti in un nuovo video sempre su asfalt ragazzi oggi dobbiamo fare nuovi eventi che si sono sbloccati dall'ultimo video pubblicato questi che vedete con scritto nuovo evento sono quelli che si sono sbloccati con l'ultimo video se non l'avete visto vi invito a farlo lo trovate nel mio canale notte d'esposizione vento al tempo elimina più auto del tuo avversario per vincere la macchina è sempre la stessa attualmente la dodge dart gt andiamo avanti e proseguiamo a fare anche quest'altra nuova gara abbiamo tre minuti la mappa è nevada mamma che rombo vai nooo 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 oh perché non riesco a arrivare oh ma sono potentissimi perché non li riesco a raggiungere allora abbiamo eliminato la prima vai abbiamo eliminato anche la seconda adesso scendiamo ragazzi sulla terza vai ok abbiamo eliminato addirittura il nostro avversario ok vai siamo la quinta la quarta ok adesso la quinta eliminiamo anche la sesta dobbiamo fare una trottola ragazzi anzi due trottole obiettivo sbloccato no guarda quello ha girato l'ultimo momento allora adesso dobbiamo fare due trottole no dovevo farle adesso mamma mia pensavo che mi buttava fuori ok quindi lo facciamo adesso no non l'abbiamo fatta no una ok uno due dai che l'abbiamo fatto dai abbiamo fatto la trottola allora ne abbiamo eliminati sette il nostro avversario ne ha eliminati quattro dai che ci rimettiamo subito in carreggiata abbiamo eliminato il nostro avversario ovviamente ci siamo eliminati anche noi eh si andavamo un pochino veloci dai ok abbiamo eliminato anche quest'altro è stato un po' cafone stavolta dai oh che peccato questo ok abbiamo eliminato un altro e siamo a dieci dai undici guardo guardo si eliminano da soli i ragazzi per non essere eliminati non è ok oh dai li saltiamo sopra nooo oh pensavo di prenderlo in nitro nooo non ce l'ho fatta ho vinto però non ne ho eliminate 15 ragazzi ah un nuovo evento ah per fare questo dobbiamo comprare questa macchina ragazzi la compriamo la compriamo ma è Audi R8 e Tron eh si perchè la dobbiamo comprare per forza alla fine perchè uuuuh abbiamo comprato ragazzi Audi R8 allora modifichiamogli subito l'aspetto subito il colore vediamo un po' com'è bella così perlace bella anche verde direi vediamo la gialla figa gialla bella gialla la facciamo gialla ragazzi ok taglia il traguardo per primo ragazzi abbiamo acquistato la nuova automobile no vediamo inizia gara vediamo come va più che altro se ne vale la pena modificare questo o riprendere di nuovo la nostra doge dart ma non credo Audi R8 gialla ragazzi vai 201 ragazzi ma se non sbaglio correva di più la nostra doge dart ok dai ok bella prima non l'ho presa quello ok siamo ok mamma mia eliminate due insieme ragazzi mamma che curva dovremmo fare un paio di abitamenti credo va bene va bene allora vai andiamo qui andiamo a sta scorciatoia ragazzi ragazzi l'abbiamo eliminata il trotto da questa mamma se le vanno proprio a cercare 228 ragazzi 2 30 quasi dai che le seminiamo dai questo nitro non finisce mai se troviamo sempre auto di fronte ragazzi ragazzi fa 200 la nostra Audi R8 corre di più la doge dart e non l'ho nemmeno modificata però questo lo dobbiamo modificare ragazzi perché va pianino dobbiamo dire qua ci facciamo un paio di giri di oddio oddio la testa andiamo da qui dai dai ok abbiamo preso anche il boccione del nitro ragazzi non vedo i nostri avversari sinceramente ragazzi abbiamo nitro a non finire vediamoci anche quest'altro boccione ok abbiamo preso ok no ragazzi guardate gli avversari là non siamo più primi no secondo e che scorciatoia hanno preso? mamma mia questo l'abbiamo proprio scampato a bella no finish siamo arrivati a secondi dai 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 nooo ragazzi secondo posto ok ragazzi se avete seguito anche questo video io vi ringrazio ovviamente se non l'avete fatto spolliciate tutti in su per questa nuova serie di Asphalt 8 che avete scelto voi vi ringrazio e noi ci vediamo al prossimo video ragazzi ciao 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 Grazie per la visione